ah io attore mongoloide di mongolia e io sono nico mi conoscete tutti no thomas milian e thomas milian si un film con un doppio thomas milian per un doppio divertimento delitto al ristorante cinese ah tu perdele molto ho perso giocato a scopetto ho perso due piotte tu perdele due piotte e un cadavere ma non ha spiegazioni non ha spiegazioni questo non capisce niente che ci posso fare io non sa che potresti fare ti potresti fare un bel crisiare di ceramica così diventi un bel fangu so tre ore che è pronto sto piatto ha fangu ha fangu lo tu e sorda ti ho detto tante volte che tu nella sala non devi entrare hai capito che non sei cinese la gente se no non ci crede che questa una cucina cinese si crede ne che mangia la roba della scatoletta perché te sei cinese chi cia zecchi io sono napoletano non ti muovo rivoltati come faccia a portarmi se mi posso muovo non ci utilizziamo efe di questa ma dove sarti fuori del dare rinascente attento tu che io sono una gente della sia la sia di chi della sia di nessuno sia corpo italiano agenti vigilanti privati a quanta dite averla 10 tu sbagliato è solo 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 che l'altro dito andete a finire pav ma che mi stai appiando in giro ma come vostra maglia nervosa sarà che con la gamba manate in bianco Ma che stai a dire ieri sera? Ma che dite? Ve ne siete fatte sei? Hai capito? Una, quasi quasi ce la facevo. Facciamo un piccolo indovinello. Se tu perdele, tu vai a prendere molto. E se io perdele, io vado a prendere molto. Va bene. Quante dita ci sono nella mani? Nove. Allora, ieri è morto. Un certo papetti che abitava qui. L'autopsia ha dimostrato che è morto per avvelenamento d'arsenico. Dopo aver ingerito cibi cinesi. Tu fai la collezione dei francobolli. E io te do una collezione dei schiaffi se non mi dice la verità. Io non so un cazzo. Non di parola a Bombolo che ho fatto il voto. Ma il voto l'hai fatto voi che ho fatto io? Ma come se uno smetteva a fumare e tu gli fumi in fascia a Bombolino? Ma non mi ha fatto, è tagliato, ho chiuso tutto. Se ti dico che prima faceva il ladro e mi ha fatto il poliziotto, tu puoi immaginare da te che mi ha fatto il drago. Il poliziotto? E che volete da me? Portate il galetto. Ma io non certo niente. Aio! Sono il metro del Taitung, so quello che è successo, ma non è colpa mia perché io non c'era. Io mi chiamo Vincenzo Quagliarula, agli ordini. Facciamo un bel tavolo per lei e la signora. Sì, ma prima fammi vedere il coso lei. Il tavolo è morto Papetti senza che nessuno se ne renda conto. Va bene, nessuno se ne deve accorgere. Andiamo, su, andiamo, via, lasciatemi là. Lasciate il tavolo, mi serve. C'è la polizia, roba segreta. Via Marciullo! Tossa Marciullo! Delitto al ristorante cinese è un film, capito? E poi c'è sto io, non so se mi spiego. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti.